Ivana Mrazova e Lucca Onestini sempre più vicini, la serata insieme e altri indizi Ivana Mrazova e Lucca Onestini sempre più vicini, la serata insieme e altri indizi. . Tutti i pezzi del puzzle si sono incastrati tranne uno, l'annuncio ufficiale. Tutto ormai porta in un'unica direzione, Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno diventando di fatto una coppia. . Prima è scattato il feeling nella casa del grande fratello Vip, poi la modella ha troncato con il suo fidanzato, infine i due si stanno frequentando assiduamente, in amicizia continuano a dire, ma gatta qui ci cova. . L'ultima serata l'anno trascorsa assieme, festeggiando in discoteca in compagnia di altri ex inquilini del reality di Canale 5. . Allegria, spasso e gioia. . Ma ci sono altri indizi che continuano a far sognare i fan. . Andiamo a scoprire tutto quel che sta accadendo. . . Luca e Ivana, questo matrimonio sha da fare. . Sembra proprio che questo matrimonio sha da fare. . Luca e Ivana, sempre più affiatati e complici, hanno passato assieme una scatenata serata in discoteca a Parma, sommersi dal calore dei fan, come testimoniano i filmati pubblicati dall'ex tronista sui social. . . Non erano soli certo, visto che c'erano altri volti noti del GF VIP, ma altri indizi spingono sempre più a pensare che stia sbocciando, o forse è già bocciata. Una coppia. . Nelle ultime ore, due in particolare le tracce seminate sui social. . . La prima una foto apparsa sul profilo dell'ex tronista, che si è presentato in uno scatto assieme a Giulia Delellis, Andrea Damante e appunto Ivana. . Una coppia collaudata e una ai nastri di partenza? Il secondo giunge sempre da Instagram, stavolta però dalle stories. . 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